Chiamami quando torni. Ci vediamo da te, Nicole. Accidente, che ti è successo alla mano? Colpa della batteria? Sì, ma non è niente. Allora, come va con l'orchestra? Bene. Sai, credo di andargli un po' più a genio. La sua opinione per te conta molto, vero? Sì. Prendi sale e pepe. Jimbo, la carne è troppo cotta. È mangiabile. Riti, riti pure. Come va con la musica, Andy? Sto andando alla grande. Sono il nuovo batterista titolare di... Ragazzi! Ehi, eccolo! Ehi, ben arrivato! Vieni a mangiare! Guarda chi c'è! Accomodati! Hai saputo, Jim? No, di che parli? Travis è il giocatore dell'anno. Ma è fantastico, Travis! Sì, e Dustin, nelle simulazioni ONU, presto inizierà il dottorato e chissà cos'altro ha in mente. E Jim, insegnante dell'anno, è straordinario. Quanti talenti sono seduti a questa tavola stasera? Andy, come va con la musica? Sta andando bene, Andy? Sì, sta andando molto, molto bene. Ecco, faccio parte dell'orchestra dello Schaeffer. Insomma, si tratta di una delle migliori orchestre del paese. E io sono un membro fisso. Potrò esibirmi durante i concerti. E inoltre ho appena scoperto di essere il musicista più giovane. Nella musica, chi è a stabilire il migliore? Non è soggettivo? No. La scuola ti farà lavorare? No, non ancora. Per adesso sto imparando. Comunque, è un'ottima opportunità per la mia carriera. Sono felice per la tua scelta, anche se è un ambiente difficile, immagino. Oh, ehi, racconta a tutti della tua partita. Quel titolo te lo sei meritato. Già, vogliamo sapere. Ho segnato un touchdown da 93 yards. È un record, un record. È fantastico. Andiamo, è la terza divisione. Stiamo parlando del Carlton. Non è nemmeno in seconda divisione. Ce l'hai qualche amico? No. E come mai? Non lo so, non ne vedo l'utilità. E con chi condividi la musica? Lennon e McCartney andavano a scuola insieme, è vero? Charlie Parker non aveva un amico prima che Joe Jones gli lanciasse un piatto. E questa è la tua idea di successo? Essere il miglior musicista del ventesimo secolo credo sia l'idea di successo di chiunque. Morire povero e gonfio di alcol e eroina a 34 anni non è la mia idea di successo. Preferirei morire alcoolizzato e povero a quell'età, con gente che parla di me a tavola, piuttosto che vivere ricco e sobrio fino ai 90 senza che qualcuno ricordi chi ero. Almeno agli amici lascerai un ricordo, è questo il punto. Nessuno di noi era amico di Charlie Parker, è questo il punto. Travis e Dustin sono pieni di amici e hanno molti progetti. Riceveranno tutti e due dei premi Nobel. Qual è il problema? Credi di essere migliore di noi? Astuto, sei nelle simulazioni o no? Rispondi a questa domanda, Andrew. Pensi che quello che faccia è uno scherzo? Vieni a giocare con noi. Fidati, l'NFL può tranquillamente fare a meno di te. Chi vuole il dolce? Scritture dall'Incol Center.